Il lago accessibile a tutti con diversamente lago. Lo dimostra la crociera sul Lago Maggiore che nel corso di una settimana, nei giorni scorsi, ha coinvolto diversi ragazzi diversamente abili. Soste di porto in porto con approdi attrezzati. Noi abbiamo seguito le tappe di Pallanza e Ferriolo di Baveno. A Miraglia è una barca a vela di 9 metri alla quale di giorno in giorno si sono affiancati altri natanti. Rotary Club Orgomanero Arona e con i sei club del Lago Maggiore dal 2016 segue un progetto che si chiama Diversamente Lago. Un progetto che ha permesso alle persone con disabilità diverse di salire e scendere dalle barche e poter localizzare tutti gli approdi accessibili per disabili grazie a un'app. Se oggi noi abbiamo sei sollevatori sul Lago Maggiore, tre sul Lago D'Orta e uno sul Lago D'Iseo è anche grazie alla generosità e l'impegno di una persona per noi molto importante, Max Berdone, un campione non solo nel mondo dello sport ma anche nel mondo della solidarietà. Non peraltro dobbiamo ricordare il grande progetto che stanno realizzando a Dammatrice e questo grazie all'impegno del suo fan club e la sua grande disponibilità. Oggi siamo sul Lago Maggiore e siamo a Berbagna Pallanza per continuare il nostro giro di conoscenza e di contatti con la gente per far conoscere il progetto e per mettere a contatto la disabilità con il mondo dei normodotati. Il mondo è solo uno, noi siamo tutti velisti, noi siamo tutte persone che vanno in barca e la disabilità per noi non esiste. Non esiste perché siamo tutti sulla stessa barca. Dalla neve al lago l'abbiamo visto, anche Max Blardone ha voluto esserci. Devo dire che è un progetto importante che è arrivato a buon punto, speriamo possa essere solo un punto di partenza. Grazie anche all'app cui si può scaricare gratuitamente, si può usufruire di questa applicazione per trovare ogni singola postazione e adibita anche ai ragazzi diversamente abili, alle persone che comunque hanno disabilità e possano sfruttare, usufruire anche di una bellezza come il nostro Lago. Non è mancato l'apprezzamento all'iniziativa da parte del mondo dello sport paralimpico. Io penso che oggi sia stata una giornata molto importante per tutto il movimento paralimpico. Quello che sta facendo il Rotary e le associazioni che si occupano della disabilità sul lago stanno facendo un grandissimo lavoro. Avere delle strutture adeguate per mettere in barca i nostri ragazzi è una delle cose più belle. Vedo che il Lago Maggiore è molto sensibile a questo, sia al lato del Piemonte che al lato della Lombardia. Diversamente il Lago? Oè!